Dopo gli scontri al vertice si sarebbero già concluse le assunzioni per i nuovi operatori ecologici di Alba. La selezione, avviata il 17 luglio, aveva creato dissapori tra la sindaca Cecilia Francese e l'amministratore unico della società Luigi Gianpaolino. A causare il malumore della prima cittadina, in primo luogo i guai finanziari della partecipata. Nonostante il Comune abbia tagliato ben 103 mila euro per inadempimenti della società, Alba ha comunque deciso di assumere. Inoltre la sindaca avrebbe preferito un sorteggio pubblico fra i richiedenti, Gianpaolino invece non ha accettato le richieste della francese e ha proceduto alla selezione tramite un'agenzia di lavoro salernitana, che nei giorni scorsi ha diramato gli annunci. L'amministrazione comunale si è solamente limitata ad eseguire controlli sulla regolarità delle selezioni. Fra i requisiti richiesti ai candidati, la residenza nel Comune di Battipaia è una pregressa esperienza nel settore dell'igiene urbana. In cambio Alba offriva nove contratti a tempo pieno, da 38 ore settimanali fino a ottobre 2017.